Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un novissimo video sul canale Siamo tornati in un video tutorial per parlare di un software che vi permette di trasferire applicazioni, musica, immagini Qualsiasi file multimediale da un computer vecchio a quello nuovo indipendentemente da un sistema operativo Per esempio se uno ha Windows 10 e l'altro Windows 8, se uno ha Windows 8 e l'altro Windows 10 Non c'entra il sistema operativo, innanzitutto per scaricarlo ovviamente dovete andare nel link che metterò in descrizione E vi è la versione gratuita che vi permette ovviamente di innanzitutto trasferire dati grazie da un computer all'altro Trasferire anche applicazioni nella versione gratuita e ovviamente vi permette di trasferire questi dati Utilizzando o una rete LAN o una rete Wi-Fi alla quale devono essere collegati tutti e due i computer Oppure grazie all'inserimento dell'IP del computer è possibile trasferire questi dati Quindi ragazzi queste qui sono soltanto poche funzioni che vi ho elencato rispetto a quelle che realmente può fare il programma E le vediamo andando direttamente all'interno del software Ok ragazzi eccoci qui all'interno del software Allora la prima funzione ovviamente ci dà la possibilità di trasferire i dati qualsiasi file multimediale da un PC all'altro La seconda funzione invece ci permette di trasferire dati come applicazioni immagini e musiche su un nuovo PC creando un file immagine La terza funzione ci permette ovviamente di migrare le applicazioni locali su altri dischi per risparmiare lo spazio Per esempio se avete un hard disk A e volete migrare le vostre applicazioni da un hard disk B con questo programma è possibile E poi potete effettuare una piccola pulizia di sistema che ovviamente andrà a pulire il vostro hard disk di file diciamo inutili Quindi di eliminare i file spazzatura e rendere l'hard disk del PC come nuovo L'ultima funzione invece vi permette di ripulire i file inutili di grandi dimensioni come per esempio video che possono essere video in 4K Oppure video che comunque pesano tanto ma sono inutili è possibile rimuoverli grazie ovviamente a questa funzione La prima cosa da fare è andare a scegliere ovviamente l'hard disk dove volete effettuare la scansione Per poi ovviamente cliccare su scansione e la scansione partirà e ricercherà tutti quei file di grandi dimensioni inutili che non vi servono Ovviamente annulliamo aveva già trovato 35 elementi con 4.63 GB che sono davvero tanti che era possibile eliminarli perché comunque non mi servivano Andiamo adesso alla funzione principale ovvero trasferimento dei dati da un PC all'altro Clicchiamo ovviamente sul tasto blu da PC a PC e vi dice che è possibile trasferire i dati seguendo due modi Ovvero collegare i due PC con la stessa rete LAN o il Wi-Fi oppure scaricare il software PC in trans che è il nome di questo programma sull'altro computer Clicchiamo su continua qui avvierà una ricerca dove praticamente ci sarà in basso a sinistra l'IP del mio computer E dopo aver ricercato il computer connesso alla rete uscirà anche l'IP del computer in cui volete trasferire i dati È possibile cliccare su aggiungi un PC direttamente inserendo l'IP da collegare se lo sapete già oppure inserendo il nome del computer È possibile visualizzare il nome del computer soltanto scaricando l'applicazione PC in trans su un altro computer Ovvero questo software che stiamo appena utilizzando Ok ragazzi dopo aver fatto la scansione ci rileverà i computer disponibili Clicchiamo su uno e non dobbiamo fare altro ovviamente che inserire la password che utilizziamo per il login su quel computer Dopo non dobbiamo fare altro che esce la direzione ovvero da che PC a che PC vogliamo trasferire i file A seconda della freccia ovviamente indicherà la direzione sulla quale verranno trasferiti i file Cliccato su ok partirà l'analisi Dopo aver terminato l'analisi ci chiederà che applicazioni, che file vogliamo trasferire sul computer di destinazione Non dobbiamo fare altro che cliccare, portare la freccia sulle applicazioni e cliccare su edit Dopo aver cliccato su edit e scelto le applicazioni da trasferire Clicchiamo su procedi Alla fine del processo ci chiederà di riavviare il computer Per ora clicchiamo di no e ovviamente il processo sarà terminato Quindi ragazzi questo è il programma in sé Vi ho spiegato tutte le possibili funzionalità Ricordo che tutte queste funzionalità sono possibili nella versione gratuita del programma Quindi non c'è bisogno che acquistate o upgradeate alla versione a pagamento Se non per qualche aggiunta che comunque è relativa Quindi ragazzi io vi invito a scaricare il programma perché è veramente veramente utile Per chi ha comprato un nuovo computer con un sistema operativo diverso da quello precedente E quindi io vi invito a scaricarlo perché può essere veramente utile Bene ragazzi per questo tutorial è tutto Vi invito a mettere like, a commentare, a iscrivervi al canale E di passare da me ai canali secondari Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi